Sono 249 nuovi positivi in provincia di Arezzo, un numero che non veniva raggiunto da novembre 2020. Di lì a poco la Toscana sarebbe diventata zona rossa. Per fortuna non ci sono decessi ma aumentano seppur lievemente i ricoveri 15 le persone che sono ricoverate in bolla covid 3 in terapia intensiva. A breve saranno ratificate le nuove norme decise dal governo centrale per arginare questa nuova ondata di pandemia. Torna l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta Italia sui mezzi di trasporto pubblici nei cinema e nei teatri allo stadio scatta l'obbligo di indossare le FFP2 e il governo sta valutando anche di introdurre prezzi calmierati per questo tipo di mascherine. Fino al 31 gennaio estensione dell'obbligo del Green Pass rafforzato alla ristorazione al chiuso, al banco e stop anche al consumo di cibi e bevande al chiuso in cinema, teatri e stadio. Le discoteche dovrebbero rimanere aperte a capodanno ma per chi ha fatto la terza dose sarà necessario l'esito di un tampone negativo. Saltano le feste e gli eventi in piazza per fine anno che implicano assembramenti all'aperto, il divieto andrà avanti fino al 31 gennaio. Altra misura al vaglio, l'estensione dell'obbligo di vaccino a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione al momento dei 3,2 milioni sono rimasti senza obbligo in 950 mila. Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario per gli studenti. Infine il nuovo fronte sui vaccini, AIFA ha approvato il Novavax dopo il via libera di EMA.